E' stato schiacciato tra la ruota di una motrice e la pala meccanica per cause in corso di accertamento attorno alle 12 di questa mattina. E' grave un operaio 34enne di Foggia trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria dai sanitari occorsi sul posto per prestare le prime cure. E' accaduto alle porte di Corato in aperta campagna durante i lavori in fase di esecuzione per il raddoppio della tratta ricompresa proprio tra Corato ed Andria. L'equip maecotto del 118 della postazione di Andria 1 ha stabilizzato l'operaio sul posto prima di trasferirlo d'urgenza in pronto soccorso ad Andria. Da qui immediato il trasferimento in sala operatoria per una difficile operazione. L'operaio infatti rischia l'amputazione della gamba destra sul posto, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.